allora per la serie incontri casuali con esseri straordinari sono venuto a pausa pranzo qui a tignano e chi ti trovo in forchetta in piena azione meraviglioso a dopo un bel selfie non ce lo leva nessuno com'è bello lo amo lo amo è il numero uno allora dopo la ripresa straordinaria di mario ziavino che è titolare della ma mule mute su misura faccio un po di pubblicità tanta gratis io non c'ho nessun prodotto sua perché voglio essere libero vi faccio vedere la realtà intanto questo è un fucile artigianale mio il manico di scopa è fatto proprio ora dopo si vede è proprio un manico di scopa a tutti gli effetti con un tondino ed ecco le catture siamo proprio in quella zona lì è cioè per me è un sogno realizzare queste due catture qui quel giorno lì per dire che si vede un bel gaggio d'oro sparato con un'asta cinque litri di elastici da fionda e poi la cattura di una spigola per me è una cosa non vi potete nemmeno immaginare a gratificazione però io pesco sott'acqua non è non sono a galla tutti pensano che io era sono a galla no come si vede nel video sono sott'acqua qui io faccio una rotazione di 90 gradi sott'acqua cioè la mia testa e il mio corpo tutto me stesso sono sott'acqua è bene precisarlo questo è l'acqua lì è 50 centimetri vedete per conto vostro 40 centimetri ma io sono in un avvallamento e sono sott'acqua come si vede all'inizio del video questa è la mia predazione principale poi pesca anche in 3 4 metri 5 metri d'acqua se c'è una paretina però la mia pesca è questa la realtà è questa qui questo è fucile famoso magnificus manico di scopa tondino da 4 millimetri per fare il meccanismo di sparo asta fatta a mano ribattuta da 5 millimetri elastici da fionda è quello lì che ha sparato a questi due pesci vittri pesci vittri grazie a tutti grazie a mario zavino è stato magnificus grazie è tutto meraviglioso grazie l'importante è divertirsi stare in sicurezza e essere felici di quello che facciamo ciao grazie 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 a tutti